A quasi sei anni di distanza dalla terremoto che ha segnato diverse parti della provincia di Catania, è arrivato il via per i lavori di ripristino e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Antonio di Padova a Monte Rosso Etneo. Il progetto, reso possibile grazie ai finanziamenti gestiti dal commissario straordinario, rappresenta un passo significativo per la riqualificazione dell'edificio di culto. La spesa totale ammonta ad oltre 310 mila euro e vedrà impegnati nel cantiere gli operai di una ditta di agrigento che sia giudicata la procedura. L'intervento prevede il ripristino del prospetto e il recupero degli ambienti interni danneggiati dal sisma. La conclusione, con la riconsegna alla comunità locale, è prevista per il prossimo anno. Auguri alla comunità, auguri al parroco Padre Alfio e un grazie al nostro Vescovo perché è sempre il promotore di tutti i lavori. Questi lavori saranno interessati soprattutto alla riparazione delle lesioni che ci sono nella chiesa, la facciata e il campanile. Abbiamo fatto la consegna dei lavori all'impresa e dal 1 agosto ufficialmente parte l'inizio dei lavori che dovranno chiudersi entro sei mesi. Quindi si spera fra sei mesi di riconsegnare pienamente alla collettività di Monte Rosso e non solo la chiesa di Sant'Antonio che è una bellissima chiesa che ha una sua tradizione e soprattutto tanti tanti devoti.